Ciao a tutti, un video brevissimo, un video di servizio per segnalarvi un articolo sul mio blog. Dunque, ho avuto in mente di segnalarvi questo articolo che ho scritto la primavera scorsa perché stavo guardando il programma del Festival del Cinema di Roma che è cominciato oggi se non sbaglio. Io ci andrò, sarò lì, partirò lunedì e mi tratterrò per cinque giorni per lavorare, è già il secondo anno che lo faccio e scorrendo il programma così per prepararmi un planning delle cose da fare ho visto che ci sarà un documentario su un autore, un regista italiano che si chiama Giuliano Montaldo. Giuliano Montaldo, regista di Sacco e Vanzetti, di Giordano Bruno con Gian Maria Volontè e l'ultimo film è stato L'industriale con Pierfrancesco Favino e Carolina Crescentini. Io, se avete modo di andarci, vi consiglio davvero di andare a vedere questo documentario perché Giuliano Montaldo è una figura molto interessante, molto particolare all'interno del cinema italiano. Io non ho visto il documentario, se avrò modo lo guarderò sicuramente, però ho avuto modo di incontrarlo. La scorsa primavera lui ha presentato L'industriale e I demoni di San Pietroburgo, che è un altro film che è realizzato qualche anno fa, in un cineclub qua di Firenze e io ci sono andata in veste di ammiratrice e poi ho buttato giù un articolo perché mi ha molto colpito quello che ha raccontato e la figura di questo uomo così elegante, devo dire un vero signore del cinema italiano. Vi segnalo questo articolo, oltre per un'associazione di idee datami appunto dalla lettura del programma del Festival del Cinema di Roma intanto, soprattutto perché mi fa piacere che anche un'istituzione così importante quest'anno diretta per la prima volta da Marco Müller si renda omaggio ad un autore così significativo, così importante e poi perché in questo articolo che poi in realtà ho scritto io ho semplicemente riversato le impressioni, le parole di Montaldo sul mio blog, si centra molto bene il punto di una questione che ho affrontato qualche volta nei miei video recensioni ovvero della difficoltà del fare cinema e anche in un certo senso dell'eroismo del fare cinema. Nell'incontro e quindi anche nel mio articolo c'è il racconto di un fallimento che Montaldo ha raccontato alla platea del cine club fiorentino la primavera scorsa con grande schiettezza e vi inviterei insomma a leggerlo perdonando magari la qualità non eccelsa della mia scrittura, della mia prosa insomma non è una cosa ufficiale, nel mio blog mi lascio un po' più andare per poi appunto magari applicare questa riflessione anche ad altre cose che mi capita di dire a me ma anche ad altri ragazzi che fanno video sul cinema in generale una riflessione a tutto tondo sul cinema e sulla difficoltà di fare cinema ma raccontata da chi del cinema ha fatto la sua vita e anche la nostra vi saluto e a presto, ciao!